ciao a tutti oggi sono qui per fare le mie più sentite scuse a s lunga in particolare alla filiale di regnano in viale sabotino perché nel video precedente che avevo messo youtube che ho prontamente rimosso avevo scatenato una polemica sulla carne macinata oggi vorrei spiegarvi come invece funziona questa faccenda della carne macinata che si scurisce e potrebbe non sembrare buona ma invece lo è verrebbe da pensare che il colore giusto per la carne sia il rosso visto che contiene sangue e muscolo invece la carne può essere di tanti colori e questo colore dipende da molti fattori dalla specie animale dal sesso dall'età dal tipo dell'alimentazione dell'animale ma i fattori più importanti sono due la concentrazione di mioglobina nella fibra muscolare e la struttura delle fibre stesse la mioglobina è una proteina che trasporta ossigeno nei tessuti muscolari ed è quindi fondamentale per garantire continue riserve energetiche alla contrazione muscolare il colore rosso è dato da un pigmento chiamato eme presente nella mioglobina la molecola è molto complessa ma il cambiamento di colore è legato da un singolo elemento chimico che è il ferro la mioglobina è di colore porpora e il suo ferro è in stato di valenza più 2 chi ha studiato chimica capisce cosa dico se no ve lo spiego fra poco quando invece la mioglobina trasporta ossigeno diventa rosso vivo e il ferro diventa di valenza più 3 si ossida e quindi sarà di colore più scuro in parole povere detto semplicemente è come quando c'è un normalissimo pezzo di ferro bello lucido che esposto all'aria si annerisce è una semplice ossidazione e adesso grazie a un chiarissimo schema che ho trovato su internet vi spiego come funziona questa faccenda della mioglobina come si scurisce la carne a sinistra vediamo una fetta di carne e a destra la carne macinata la carne appena macellata ha un colore rosso porpora successivamente in presenza di ossigeno il colore diventa più vivo grazie alla proteina contenuta nel muscolo appunto la mioglobina se non è presente ossigeno perché la carne ha contatto con la superficie sottostante o come nel caso della trita e all'interno della massa di carne la reazione non avviene e la carne scurisce di sotto questo avviene dopo poche ore la carne invece scurisce anche in superficie se rimane a contatto con l'aria quindi si ossida per molte più ore alcuni giorni circa 4 6 a temperatura frigorifero questo non significa che la carne non sia buona ma solo che sia sudata meglio comunque consumarla cotta entro poco tempo dall'acquisto detto questo rinnovo le mie scuse a esse lunga e dico a tutti i clienti di continuare a comprare da loro e buoni acquisti e alla prossima